In occasione della giornata mondiale contro il bullismo e cyberbullismo a Teramo si è svolto il primo appuntamento del progetto educativo regionale L'Abruzzo contro il bullismo, organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Società Civile e fortemente evoluto dall'Assessorato Regionale Le Politiche Sociali e la Pubblica Istruzione. Dopo il grande successo della prima edizione è tornata quindi l'iniziativa che coinvolgerà gli studenti di oltre 30 istituti scolastici. Ho avuto fortemente anche quest'anno questo progetto per cercare di prevenire e trovare le soluzioni contro il bullismo e cyberbullismo. Dopo il successo del stesso anno l'auspicio che anche quest'anno ci sia un forte riscontro ma già dalle prime ore abbiamo visto una grande partecipazione degli studenti. Come diceva lei oggi è il primo giorno, ce ne saranno tanti altri fino al 3 marzo. Purtroppo è una problematica in forte crescita, anche nell'inaugurazione dell'anno giudiziario si è evidenziato il fatto che i casi sono aumentati, non solo di bullismo ma soprattutto di cyberbullismo. Purtroppo la rete è importante, lo sappiamo benissimo, ci troviamo nella fase della transizione digitale, ha trovato però delle insidie che crea atteggiamenti vessatori di emarginazione, di isolamento. E noi istituzioni in sinergia tutti quanti dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni. Numerosi gli incontri di Abruzzo contro il bullismo organizzati fino a marzo che interesseranno gli studenti non solo delle scuole di Teramo città ma anche degli istituti comprensivi dei comuni di Giulianova, Rosetto degli Abruzzi, Nereto e Pineto. Novità dell'edizione 2023 saranno gli appuntamenti con gli studenti delle scuole di Pescara, L'Aquila e Chieti. Sì, l'obiettivo è sempre quello di incrementare per poter testimoniare a più giovani possibile che il bullismo è un fenomeno che va assolutamente arginato e che loro sono i primi che possono farlo. Noi semplicemente gli diamo le linee guida. Sicuramente l'età non gioca a favore, la pandemia che ci siamo lasciati alle spalle ha lasciato comunque degli strascichi importanti. I giovani hanno passato tanto tempo sul web e quindi il cyberbullismo incombe sulle loro vite, sulle loro giornate. Cerchiamo attraverso l'ingegner Gianmaria De Paulis che in questo caso è la persona più indicata per poter dare consigli ai giovani perché mastica questa cosa tutti i giorni e quindi può aiutarli a evitare i rischi che si corrono sul web e non solo, anche i rischi che si corrono a scuola magari.